Eleonora Goldoni, dagli Stati Uniti alla Nazionale l'emozione della tua prima convocazione in Nazionale Maggiore? È un'emozione indescrivibile, un'emozione da pelle d'oca. Io tuttora stare a fianco giocatrici tali che ho sempre stimato, non ci credo. È strano per me anche solo sedermi di fianco a loro a tavola, parlare con loro, è veramente da pelle d'oca. Spieghiamo perché dagli Stati Uniti alla Nazionale, perché tu nel 2015 ti sei trasferita negli States per studio e anche giochi a calciola. Raccontaci un po' la tua storia. Il tutto è nato da un campionato europeo svolto con l'Under 17 in Turchia e in seguito a questo campionato sono stata contattata tramite mail e tramite social da diverse squadre americane, università americane. Poi ho scelto di andare in un'università del Tennessee per il livello di gioco e anche perché in squadra c'erano già due ragazzi italiani, quindi ho pensato che mi avrebbe avvantaggiato la questione. Quindi ho preso la decisione di partire anche perché è sempre stato un mio pallino, è sempre stato un mio sogno quello di poter giocare all'estero, ma soprattutto quello di imparare bene l'inglese, lingua che io ho sempre amato. Come ti trovi negli Stati Uniti, la vita che conduci lì e poi soprattutto il calcio lì. Che differenze hai trovato rispetto all'Italia? È un'esperienza che augurerei a chiunque perché sto notando proprio come sia un'esperienza formativa a livello soprattutto caratteriale. Cioè ti aiuta a disporti, ti aiuta a crescere in tutti i sensi. Devo ammettere che il primo anno è stato molto complicato per l'adattamento, per la lingua, per tante cose, però adesso mi dispiace addirittura quando devo tornare per le vacanze perché l'ambiente, le giocatrici, le compagne, i rapporti creati sono rapporti unici, rapporti che mi rimangono e ai quali penso sempre. Quanto prevedi di rimanere ancora negli States? Prevedo di terminare gli studi, quindi mi manca un anno e mezzo prima della laurea. Mi laureerò nel maggio 2019 e poi penso di tornare. Penso di tornare in Italia o comunque in Europa. Domanda elementare ma inevitabile. Cosa ti manca dell'Italia? Il cibo, davvero mi manca il cibo perché la cultura alimentare là è particolare, non sono molto forbiti in questo. E poi sicuramente il rapporto con i miei fratelli, io ho una famiglia molto molto numerosa ed è stata una delle difficoltà maggiori il mio primo anno in America. Veniamo alla partita di sabato. Prima convocazione, sabato c'è questa amichevole con la Francia che sicuramente sarà un test anche per sperimentare le nuove giocatrici da parte del mister. Speri di poter trovare spazio immagino? Certo, spero di poter trovare spazio ma non lo pretendo nemmeno. Se arriverà, anche se arriveranno solo due o tre minuti, io cercherò di dare il massimo e di farmi vedere in quei due o tre minuti sicuramente.